che ci faccio qui sono in un giardino è il mio giardino preferito è la villa dove vengo a passeggiare ci sono giorni in cui non avresti voglia di uscire non avresti voglia di mettere il naso fuori casa però quando non lo fai da più giorni a un certo punto senti il bisogno di prendere aria specialmente se è una giornata di sole come oggi erano diversi giorni che stavo in casa perché ho avuto un forte raffreddore non so se influenza ma insomma senza febbre un po di tosse insomma queste cose che in questo periodo accadono a tanti di noi questa mattina c'era il sole qui a roma c'è il sole ho sentito proprio la voglia di uscire di venire a passeggiare e oggi non ci sono io in video c'è questo viale alberato pieno di foglie e cadute oggi sono un po più scure la settimana scorsa erano veramente gialle erano bellissime allora mi viene in mente l'autunno è la stagione della caduta delle foglie in questo momento ne vedo qualcuna che sta accadendo non so se voi l'avete vista e mi viene in mente come nella vita di tutti noi ci sono dei momenti in cui dobbiamo lasciar cadere delle cose e questo significa fare spazio per altro fare spazio ad altro al nuovo e allora per rimanere in tema di natura di alberi gli alberi perdono le foglie continuano a radicarsi nel terreno continuano a crescere la chioma continua a crescere allora è un tema a me molto caro come avrete visto e a un certo punto dobbiamo lasciar cadere qualche cosa per fare spazio ad altro quindi il tema è a cosa facciamo spazio a cosa diciamo sì torno indietro perché non voglio riprendere persone che stanno per arrivare voglio che guardiate solo gli alberi il il viale alberato le foglie che cadono allora noi a volte abbiamo difficoltà a scegliere a dire a dire cosa scegliamo a che cose rinunciamo ecco quello che a noi ci dispiace molto è rinunciare a qualche cosa siamo molto concentrati su ciò che lasciamo cadere su ciò che perdiamo invece di concentrarci su ciò che guadagniamo se non facciamo spazio non possiamo andare incontro al nuovo se non facciamo spazio non possiamo acquisire nuova conoscenza nuove ipotesi nuove nuove strade nuove esperienze e allora prendiamo una strada laterale usciamo dal percorso avventuriamoci nel bosco avventuriamoci in quelle situazioni che non abbiamo ancora esplorato lasciamo cadere qualche cosa diciamo no a qualche cosa ma diciamo sì ad altro a tanto altro che aspetta di incontrarci buona domenica